La plastic tax, contenuta nella manovra di governo, continua a creare discordia. Contro di essa si sono alzate le voci del mondo imprenditoriale, tra queste le associazioni come Confindustria e Confcooperative che lanciano l'allarme in tema di occupazione. L'Emilia Romagna produce il 60% degli imballaggi a livello nazionale e il presidente della regione, Stefano Bonaccini, ha chiesto che la manovra, sul punto, venga rimodulata. Dall'altra parte si compatta invece il mondo ambientalista a favore della norma e dall'Emilia Romagna il Movimento 5 Stelle rassicura il mondo imprenditoriale, alleandosi alle parole del ministro Costa che l'ha definita una tassa di scopo. Se diventerà una tassa di scopo come io credo, in realtà tutto quel gettito verrà poi utilizzato e tornerà a favore di quei gruppi industriali, di quegli imprenditori che lavorano questo materiale, che nel frattempo agiranno per riconvertire verso plastiche biodegradabili o compostabili e in quel modo si eviterà quello che invece secondo me è il problema più grande, ossia che se si interviene adesso si previene la perita di moltissimi posti di lavoro nel futuro, nel prossimo futuro, perché la tendenza è chiara, internazionale, cioè la plastica è ormai un materiale che non va bene sul mercato, non è percepito più dai consumatori come qualcosa di comprabile e nello stesso tempo i costi ambientali e il fatto che sia inquinante, che sia di difficile smaltimento, sono chiari a tutti. Cambia il clima sul nostro pianeta, a cui siamo chiamati a rispondere, ma cambia anche il mercato, che non rimane indifferente al tema green. In questo senso il Movimento 5 Stelle invita gli imprenditori a guardare con attenzione a questi cambiamenti che sono ormai incontrovertibili. Ci sarà presto un tavolo, ci sarà presto la possibilità di incontrare anche tutti quei rappresentanti delle imprese emiliano-romagnole di questo settore che possono portare le loro istanze, che verranno aiutati nel modo migliore perché non soltanto non perdano né, diciamo, introiti e appunto garanzie per i loro lavoratori, ma anzi possano essere al passo coi tempi e non farsi scavalcare dopodomani o domattina da altri paesi che nel frattempo su questo si stanno già mettendo più avanti di noi. Grazie per la visione! Grazie a tutti